Care colleghe e cari colleghi, sono Marco Ziccardi, sono il presidente dell'Accademia dei Dottori Commercialisti di Torino, che è affiliata all'Associazione Nazionale dei Dottori Commercialisti. Sono qui per informarvi che l'Accademia dei Dottori Commercialisti di Torino ha promosso una lista per le prossime elezioni dell'ordine che si terranno il 5 e 6 novembre. Una lista di candidati che sono composti per la maggior parte dai consiglieri della nostra Accademia. L'Accademia di Torino appoggia la lista presieduta dal vicepresidente dell'Accademia Mario Busso, in quanto vuole continuare il lavoro già svolto in questi quattro anni dal sottoscritto del collega Alessandro Conte e proseguirlo per il mandato 2021-2024. Cari colleghe e cari colleghi, io ho l'onore di rappresentare in veste di presidente questa lista numero due per le elezioni per il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti 2021-2024. Sono Mario Busso, ho svolto la professione Dottore Commercialista e sono iscritto all'albo dei dottori commercialisti di Torino dal 1978. Mi sono dedicato in quest'ultima fase della mia vita professionale a questa attività dedicata all'Ordine, partendo da un momento particolare che sta vivendo il nostro Paese, un momento di svolta. Un momento di svolta che riguarda non solo la nostra professione ma tutta l'economia. I paradigmi di questa svolta sono stati delineati da un personaggio molto autorevole, Mario Draghi, in un recente discorso in cui ha individuato tre punti di riferimento sintetizzati in Digital, Young e Green. Queste sono le direttrici di sviluppo per la nostra professione e per l'economia tutta. Insieme a questa io vorrei richiamare i principi delineati dall'Agenda 2030 dall'Organizzazione per le Nazioni Unite per la proposizione di uno sviluppo sostenibile. Alla base, uno dei principi base di questa agenda è l'uguaglianza di genere. Insieme a questa uguaglianza di genere vorrei proporre altri due principi che ritengo inderogabili che sono quello della trasparenza e della meritocrazia. Io cercherò di svolgere il mio mandato nel rispetto di questi presupposti per il bene di tutta la nostra categoria e pertanto vi ringrazio della fiducia che vorrete concedermi. Alessandro Conte ha promosso insieme al candidato presidente Mario Busso la lista che viene denominata Commercialisti per il futuro di Torino e che comunque è stata pienamente appoggiata dalla nostra Accademia. Cari colleghi e cari colleghe, sono Alessandro Conte e sono segretario dell'Accademia dei dottori commercialisti di Torino, nonché consigliere dell'ordine uscente dell'ordine dei commercialisti di Torino. Nel corso di questi anni ho appunto sviluppato un'esperienza per me molto interessante e costruttiva e mi piacerebbe metterla a disposizione dei colleghi per i prossimi quattro anni. Nel corso di questi quattro anni abbiamo presentato varie iniziative proposte all'ordine tra cui ricordiamo due che sono state accolte, il prolungamento da tre o cinque anni della quota ridotta per i neo iscritti e l'istituzione di un fondo di solidarietà a favore dei colleghi in crisi. Pertanto potrei mettere a disposizione di tutta la categoria l'esperienza maturata nel corso degli ultimi quattro anni, richiedendovi di vorrei accordare la vostra fiducia nei miei confronti anche per i prossimi quattro anni. Vi invito pertanto a voler dare il voto alla la lista commercialista per il futuro di Torino numero due barrando il nominativo di Alessandro Conte.